Ciao a tutti ragazzi, io sono Maki ed eccoci qui con un nuovo episodio della nostra Fox Legacy. Allora, è il giorno seguente, è praticamente la nostra melee alle 12 all'ingaggio, però dobbiamo ancora fare queste cose, quindi spero di riuscirci perché sono le 7 di mattina, abbiamo ancora un po' di tempo, quindi ci proviamo. Nel frattempo le sto facendo svuotare qui la ciotola perché vedo che è avariata, o no, c'è qui la nostra vicina un po' problematica, ma vedo che anzi ha pulito la macchinetta del caffè, perfetto. Vediamo se in frigo c'è già qualcosa di pronto. Dunque, le frittelle, perfetto. Io direi di metterci direttamente qui, ok, prendi una porzione e ti guardi il canale comico, così cerchiamo di aumentare la comicità. Eccoci qua. Per quanto riguarda la ricerca sull'emozione flertante, non so, perché dovremmo flirtare con qualcuno, però secondo me lei per il momento ha per la testa Joy, eccola qua, quindi magari potremmo flirtare con lei. È venuta qui la nostra vicina. Io in realtà sarei tentata di provare a flirtare con lei, non so se è una buona idea, perché comunque non è che andiamo molto d'accordo, però potrebbe essere interessante. Sono in realtà anche curiosa. Se magari noi proviamo ad interpretare una scena romantica, se questa cosa aiuta. Io credo di no. Però proviamo, magari dice, guarda, dovrei chiederti un favore se non è troppo inopportuno, però più tardi ho un ingaggio e dovrei capire bene questa scena un po' romantica. Spero che tu possa aiutarmi, però se è un problema puoi benissimo dirmi di no. E mi sa che lei anzi accetta, dice, ok, va bene, proviamo. Oggi nessun problema, Amelie prova una lieve sensazione, quasi un formicolio alla testa, ma è molto più semplice ignorarla come se niente fosse. Sto morendo, ragazzi. Ma come non gradisci? Sì che gradisci la recitazione. Oh mio Dio. Oddio, però in realtà potremmo prendere questo segnale come, diciamo, una spinta per lei di lasciare questa carriera, anche se, secondo me, questa scelta potrebbe essere dettata da tutte le cose che sono successe. Oh mio Dio. No, però vedete, non va avanti qui. Oh mio Dio, si sono baciate. Oh mio Dio, ragazzi. Vediamo se, quando finisce l'interazione, se qui mi segna qualche cosa. No, mi sa di no. Vediamo se è spuntato qui. Fluidità oratoria. Il modo in cui ha pronunciato le battute, l'intensità dello sguardo, da svenimento. No, io direi che possiamo, abbiamo soltanto due ore. Ce la facciamo a vedere Joy? Non ne sono sicura. Possiamo immaginare magari che la invitiamo per un caffè da qualche parte, un brunch? Ok, eccoci arrivati. E direi di flirtare subito. Quindi magari facciamo flirt. Intanto un complimento per l'aspetto. Ok. Guardate come si guardano ad oro. Poi flirtiamo. Ok. Magari potremmo sederci da qualche parte. Ah, peraltro questo lotto, sono venuta qui e l'ho cambiato. Perché quello di prima vedevo che i sim facevano un po' fatica proprio a muoversi, a spostarsi, perché era molto stretto. Questo praticamente invece c'è qui, sempre una palestra e sopra ci sono i camerini. Poi qui c'è un bar, tipo per il bubble tea, e sopra ci sono i tavolini. Mentre qui c'è un negozio di vestiti. E sopra c'è questa zona qui, sempre dei vestiti, però come ci si... Ah, da qua forse ci si arriva, sì. Ok. Quindi questo diciamo è tutto. Qua c'è anche questa palestrina, altri tavolini, ma gli spazi sono più larghi. Quindi direi che possiamo muoverci molto meglio. Magari ci sediamo qui. Ok. Perfetto, vediamo se riusciamo. Acquisita l'abilità di corteggiamento. Adoro. Direi che Amelie questa abilità serve molto. Uh! Cavolo, un appuntamento! E... Vabbè, in due ore ce la potremmo anche fare, però io rimarrei qui. Dai. Facciamo il romantico, perché comunque già ci conosciamo. Facciamo senso obiettivi. E quindi andiamo. Sempre con lei e sempre in questo posto. Ok, perfetto. Sediamoci qua. Che sono diventate anche buone amiche. Inizia la soddisfazione romantica. Ok. Facciamo. Manda un bacio. Ma si siede con noi? Non si siede? Uh... Vediamo. Che altro possiamo fare? Prometti di dedicare una canzone? Sì, dai. Dato che comunque Amelie le scrive. Secondo me è perfetta questa cosa. Vorrei capire perché non si siede con noi. Ah, non ha spazio? Ci possiamo sedere qui? Ah no, aspetta. Forse sta arrivando. Perfetto. Ok. Tra un'ora abbiamo l'audizione. Fai una ricerca sull'emozione flertante. Cavolo, ma non abbiamo proprio iniziato. Cioè, quindi tutte queste cose che io ho fatto non sono servite a niente? Aspetta. Per la ricerca sull'emozione. Facciamo... Oddio. Cioè, io pensavo di aver fatto, invece non ho fatto proprio un bel niente. Forse dovevo semplicemente essere flertante. Ah, perché adesso sì, me le sta contando. Non so se riusciremo a arrivare al 100% in realtà. Sono curiosa di vedere lei che cosa ne pensa di me. Peraltro, ragazzi, ho notato una cosa. Guardando tra le passate... Cioè, le relazioni passate di Amelie, ho notato che per la maggior parte a lei piacciono le sim con i capelli neri. Perché guardate, hanno tutte, tranne lei e lei, hanno tutti i capelli neri. Quindi mi sa che poi nel cas le metto che ha questa preferenza. Perché effettivamente sì. Cioè, senza neanche farla apposta, non era una cosa che io avevo programmato proprio per niente. Però, a quanto pare, lei è attratta dai capelli neri. Bene, ci sta. Uh, romantica! Beh, sì, dai ragazzi, lei è romantica. Adoro. Ha vissuto l'esperienza del tratto di scoperta personale per il massimo numero di volte. Ok. Perfetto. Uh, e abbiamo anche il livello 2 di corteggiamento. Quindi possiamo condividere il cofanetto delle coccole con altri sim. Adoro. Ah, qui abbiamo completato. Perfetto. Voglio vedere qui invece che mi dice. Andiamo un po'. Uh, anime gemelle. Indifferenza. Di lei non sappiamo nulla se ci trova a Trento o no. Ma mi sa di sì. Io quasi, quasi io lo chiedo. Andiamo relazione. Scopri i dettagli. Quindi, chiedi il livello di attrazione. Ok. Sono super, super curiosa. Facciamo anche... Chiediamole anche sempre da scopri i dettagli della soddisfazione romantica. Attrazione? Direi che sembri a posto. Se non altro non mi pare che tu abbia difetti evidenti. Ah. Ok. Questa cosa mi fa rimanere un po' male in realtà. Indifferenza. Ok. Vediamo se quantomeno è soddisfatta dalla relazione romantica. Ok. Vediamo un po'. Trovo la nostra relazione molto soddisfacente. Ok. Ma io sono curiosa in realtà di capire perché per adesso loro non sono fidanzate. Quindi, ok. Vedo che entrambe sono molto indifferenti l'una con l'altra. Quindi né attrazione né repulsione forse è il caso di approfondire la conoscenza. Io sono curiosa di capire se Joy ha le stesse intenzioni di Amélie. Cioè, in realtà non so neanche che intenzioni abbia davvero Amélie. Però si trova molto bene con Joy. Quindi, non lo so. Cioè, dobbiamo capire se... Chiama per chiedere aiuto. Dobbiamo capire se è il caso di approfondire questa cosa. Perché comunque vedo che... Cioè, la relazione va molto bene. Decisamente. Vedo che sono anche anime gemelle. Però non so se è il caso di vedere se c'è anche qualcun altro. Perché in realtà a me lei piace moltissimo. Cioè, è proprio carina. Guardatela. Mi piace veramente un sacco. Però, insomma, è da vedere questa cosa. Ok. Vediamo un po' se possiamo fare qualcos'altro. Però poi mi sa che tolgo qui l'appuntamento. Perché tra poco dobbiamo andare. Andiamo a affetto. Dichiera l'amore pubblicamente. Dai fiori. Intimità fisica. Facciamo un bacio di questi che è una mod che si chiama More Kisses. Magari ve la lascio qui sotto in descrizione. Facciamolo di questi per, tipo, salutarla. Però in realtà non so quale. Facciamo, tipo... Questo qua. Bacio amoroso. Vediamo com'è questo bacio amoroso. Ok. Eccoci qua. Uh, si abbracciano. E tipo, vabbè, adesso io devo andare. Però ci sentiamo dopo, ok? Anche se sembra un po' struggente questa interazione. Eccole. Aspettate, no? Devo fare assolutamente una foto. Perché c'è pure un fantasma lì. Ma cosa? Oh mio Dio. No, ma sono troppo carine però. Scusatemi. Ok. Devo fare quante più foto possibili. Mi piacciono veramente un sacco. Bene. Ok. Si baciano? Ah, aspettate che tolgo qui l'evento. Oh cavolo! No, carini. Volevo fare una foto anche qui. Però dobbiamo andare. Quindi, vabbè, andiamo comunque. Ma questa interazione è troppo graziosa. Eccoci arrivati. Vediamo chi c'è oggi come colleghi. Allora, Vanessa. Cheryl. Ok. Chi altro c'è? Oh, Joy! No, vabbè. Ma allora siamo... Magari sono venute insieme. Adoro! Mi piace questa cosa. The Urbs, ragazzi. Sì, ero super gasata all'idea di fare questo ruolo. Quindi direi di metterci subito al lavoro. Come al solito dobbiamo farci pettinare e truccare. Provare la scena con un co-protagonista. E spettacolare con qualcuno sul set. Ok. Intanto direi di farci pettinare e truccare. Ok. Vediamo un po' come ci combinano questa volta, ragazzi. Ma guardate... Guardate Joy come esultava per noi. Secondo me è molto fiera di dove è arrivata Amelie in poco tempo. Perché già fare questa sitcom, quando l'è iniziato con le pubblicità, è un grande passo avanti. Quindi secondo me è molto fiera di lei. Adoro il modo in cui comunque loro due hanno legato. Quindi sono molto contenta. Uh! Ma allora è morta la nonna! Ma io non sto capendo, ragazzi. Vabbè, praticamente qui mi danno dei soldi. Quindi io li accetto onestamente anche perché dico è sua nonna. Va bene. Adesso magari proviamo una scena col co-protagonista. Uh! C'è anche Jess. Comparsa. Ecco qua, co-protagonista. Nico. Vabbè, mi devo presentare per forza. Quindi facciamo una presentazione allegra. Diciamo, ti va di provare la scena prima di andare sul set? Ok. Secondo me, lui è d'accordo. Ok. Quindi prova la scena. Ok. Poi dobbiamo spettacolare con qualcuno. A questo punto io spettacolerei direttamente con Joy. Quindi magari facciamo, ecco qua. Spettacola sulle relazioni al lavoro. Magari tipo le dice, non sai cosa ho sentito mentre mi facevano i capelli. Anche perché effettivamente i parrucchieri spettacolano molto mentre fanno i capelli. Quindi, cioè, ci sta. Ok. Vediamo un po'. Quanto dura? Ok, ce l'abbiamo fatta. Spettacoliamo un pochino con Joy. Guardate com'è carina, no ragazzi? A lei mi piace troppo, ve lo devo dire. Allora. Interpreta la scena di un flirt. Interpreta la scena di un'asciugatura. Ok. Qui cos'è? Flirt. E qui asciuga. Proviamo rischioso. Lei è a livello, comicità, a livello 4. A noi serviva il livello 3. Quindi secondo me possiamo provare. Ok, basta parlare con lui, andiamo a registrare. Eccoci. Andiamo un po'. Pronta? Eccoci qua. Peraltro è un giallo che è uguale alla parete. Ok, la scena è andata. Ora una barzelletta. Fai sempre rischioso, visto che te la sei cavata molto bene. Peraltro adoro che qua potremmo anche mangiare. Ok, vai Amelie. Credo in te. Andiamo un po'. Eccola. Dai. Lei è sempre super fiduciosa, nonostante tutto. Bene. Vediamo come andrà il flirt, ragazzi. Ok. Flirt anche qui rischioso. Eccolo qua. Pronto? Peraltro, ragazzi, potremmo presentarlo ad Allen. Potremmo presentarlo ad Allen. Non so quale sia il suo vero colore di capelli però. Ok. È la scena di un bacio. Ovviamente è rischioso. Anche qui rischiamo, anche se vedo che stiamo già andando molto bene. Eccoci qua. Adoro. Questa carriera, ragazzi, è troppo divertente. Mi piace veramente tantissimo. Ok. Eccoli qua. Direi che è andato benissimo. Secondo me riceviamo una promozione. Eccoci qua. Ce l'abbiamo fatta. Siamo state promosse da attrice non protagonista. Nuove edizioni sono ora disponibili. Ok. 2000 simoleon. Qui abbiamo 10.000 simoleon. Ah, per quanto riguarda queste, abbiamo detto che lei vuole andare a Selvadorada, vuole vivere un'avventura magica, andare in discoteca e creare 30 oggetti. Potremmo organizzare una festa in discoteca, sempre un'altra festa da ballo, secondo me ci può stare. Sì, magari oggi pomeriggio. E poi io la vorrei far partire. E a questo punto potremmo approfittare degli ultimi giorni di autunno. E potremmo andarci con gioi. Quasi, quasi io lo proporrei. Vediamo un po'. Facciamo... C'è tipo proprio un piano folle, qualcosa del genere? Una conversazione profonda. Ecco qua, proprio un piano folle. Oh! Mmm... Onestamente... Non so se voglio farle fare questo reality. Dei sette appuntamenti in un giorno. No ragazzi, onestamente, onestamente no. Evitiamo. Con Amelie evitiamo. Ok. Chiediamo a Joy se vuole venire a Selvadorada con noi. Sto avendo un'idea pazza. Ti va di seguirmi? Ce ne andiamo a Selvadorada. Esploriamo un po' la giungla. E prendiamo... Facciamo proprio una pausa da... Da tutto. E secondo me lei le sta dicendo di sì. Mi fa piacere che le mie battute sui lama non ti sembrino trite e ritrite. Ho l'impressione che tu mi capisca. Sì, secondo me Joy le ha detto... Sai che c'è? Sì. Andiamo. Peraltro hanno forte soddisfazione. Adoro. Quindi dai. Io farei magari... Non so se tre giorni o forse due. Facciamo magari venerdì e sabato. Venerdì e sabato. No, facciamo giovedì, venerdì e sabato. Così almeno possiamo esplorare... Ah, però c'è il Festival del Raccolto. Però, ragazzi, secondo me Amelie è un po' impulsiva così. Quindi anche se c'è il Festival del Raccolto, lei potrebbe organizzare una vacanza. Facciamola questa cosa direttamente giovedì. Quindi oggi più tardi ce ne andiamo in discoteca. Facciamo una bella festa da ballo. Domani... Conosci una celebrità? No, domani sarà una giornata tranquilla. Magari le facciamo fare qualcos'altro da qui. Le facciamo creare qualche cosa, visto che lei aveva questo desiderio. Le candele. Ce ne andiamo in un bellotto dove possiamo creare delle candele. Ah, e poi voleva stringere un'amicizia o lottare o fare fichi fichi con un incantatore. Ecco, questo è un po' più... Un po' più difficile. Io quasi quasi questa la scarterei onestamente. Però intanto ce ne andiamo a casa. Potremmo andare già a ballare. Ma sì, dai, andiamoci adesso. Quindi facciamo... Da dove si organizzavano le cose? Da sociale? Da qui. E facciamo pianifica un evento sociale. Ovviamente verrà anche Joy con noi. Ok. Questi provano in bagno, ma cosa? Aiuto. Organizziamo una festa da ballo. A questo punto riproviamo ad invitare Allen e il tipo questa volta. Quindi, festa da ballo... Festa da ballo... Eccola qua. Festaioli. Joy. Invitiamo... Oddio! Ma Edison è sposato? Ma non si era confessato a noi nello scorso episodio? Ma in che senso? Oh mio Dio! Allora, invitiamo anche Jess. Questa volta, sapete che vi dico, proviamo ad invitare Acqua e anche l'altro coinquilino simpatico. Santiago. Invitiamo sempre Akira. Ma lui non era morto. No, ragazzi, ma io sono confusa. Ok, siamo arrivati. Io direi di venire qui. Diciamo, vai qui insieme. E... Facciamo... Ah, ma in realtà c'è già qui la musica. Proponi un ballo seducente? Oh mio Dio! Ma aspetta perché lei in realtà è ancora vestita come il suo personaggio. Quindi facciamo abiti, cambia abito. Ti metti gli abiti da festa. Però voglio vedere quali sono. Si vedono? Vabbè dai, mettiti questo. Ok. Mi sa che le devo dare un piccolo makeover. Ok. E sapete cosa? Secondo me sì, dai, propone un ballo seducente a Joy. Vediamo se lo fanno perché... Questa cosa sarebbe molto divertente. Non ha rifiutato? Ah no, non ha rifiutato. Voglio vedere. No, vabbè. Oh mio Dio, cosa sta succedendo? Ma guardatele! Aiuto! E non ha neanche beccato, perfetto. Aiuto ragazzi! Le adoro. Però, allora, io ho organizzato una festa, quindi io questo coso me lo spunto perché l'ho fatto. Qui, togliti. Ascolta musica metal. Balla al ritmo della musica dello stereo. Sì, direi che possiamo farlo. Fai... Sì dai, balla insieme. Ma guardatele! E qui tutti che le guardano, tipo, ma che sta succedendo? Oh mio Dio! Oh, questi due stanno parlando. Ok. Quando finisce questa cosa? È un po' imbarazzante. Mi fanno morire! Ok, balliamo proprio al ritmo dello stereo. Così completiamo questo. In realtà io sto notando una cosa, che... È vero che loro hanno una forte soddisfazione, però... Qui non mi spuntano cose su Joy, ma in generale su nessuno. Ah! Ehi, la serie televisiva a cui hai partecipato? Brutte notizie. Ah, scherzo! Hai svolto un ottimo lavoro. Tutti adorano la tua interpretazione, tu e noi. Stiamo proprio andando forte insieme, eh? Perfetto, dai, sono contenta. Dai, balla al ritmo della musica. Ok. Vediamo un po' se mi spunta qualcosa. Bevi una bevanda. Direi che puoi prendere qualcosa qui. Facciamo un ordine, una bevanda. Ci prendiamo... Una EAPA. Perfetto. Anzi, EAPA. Vai pure. Ok. Questa chi era? Jade! Ah! Che però è adulta. Ma guardate che carini seduti tutti qui. Adoro! Ah, facciamo anche il club dei colleghi, che l'avevamo detto e poi non l'abbiamo più fatto. Quindi, facciamo la prova. Quindi, andiamo da qui. Carriera. E facciamo attore. Vediamo chi c'è. Ah, ecco, c'è lui. Ok, prendiamo ovviamente Joy, Jess, Nico, facciamo Cheryl e Naoki. E credo siano tutti. Ma da quando lei è un'attrice? Oh mio Dio. No, facciamo così? Sicuramente a loro due darò un po' un makeover. Assolutamente. Ok, per il momento non metto nulla qui. Qui ovviamente metto questo. E qua facciamo Club degli Attori. Appena troverò un nome più bello, lo metterò. Gli Attori. Ok. Perfetto. Così almeno abbiamo delle amicizie qui che possiamo presentare, ovviamente, anche ad Allen. Chissà, chissà. Perché io in realtà ho messo dei vostri sim nello scenario, però non mi sono ancora spuntati. Ok. Dove siamo noi? Ah, ma perché sei qui? Ah, ma perché non c'è più un barista. Vuoi bere questa? Andiamo un po'. Le rubiamo il drink. Riusciamo? Sì, dai, riusciamo. Ottimo. Perché lei voleva bere una bevanda. Uh, ragazzi, lei è molto felice per aver fatto Baldore una festa. Quale che sia la festa, è per questo che vive Amelie. Adoro. Dai, ci sta. Anche se in realtà questo posto è un po' morto, direi che ci sta con il fatto che siamo qui. Sapete cosa? Potremmo... Potremmo venire qui con Joy. Racconta delle storie di fantasmi. Esplora. Non possiamo esplorarle insieme? Proviamo... No, dai. Non so se è il caso di fare i fichi fichi in realtà. Ma sì, dai, si vive una volta sola. Ah, che siamo qui. Vediamo anche questo. E via. Ok, vai. Me li ha preso gli interessi di fichi fichi di Joy. Ma già abbiamo fatto fichi fichi con lei. Ok. Si vola. Ma guardatele! Ma vabbè. Sto morendo. Eccole qua. Vabbè. Lasciamo loro la loro privacy. Oddio, però in realtà... Ok, si sente tipo il suono, però non ci sono gli effetti tipo i cuoricini come ci sono di solito in tutte le altre animazioni del fichi fichi. Hm, interessante. Oh, cos'è questo? Oh, cos'è questo? Campanile. Suona la campana? Uh, sarei tentata di farlo. Sì, dai, suona la campana. Com'è andata? Joy dove è finita? Paura pazzesca. Darsi alla pazza gioia nella cripta è il modo ideale per far galoppare di nuovo il cuore. Ottimo! Ma Joy è uscita perché non la vedo. Aspetta. C'entra la visuale. Ah, ok, sì, era già uscita. Perfetto. Ok. Adesso magari suoniamo la campana e poi penso che la faccio andare a casa, anche se è molto presto. Però... Sì, dai, lei già ha anche un po' sonno. Ok. Ah, entra proprio qui. Adoro. Qui ci sono anche dei fantasmini. Chiedi di essere consolata. Chiacchiera con Spectre. Oddio, ma ci sono dei ragni giganteschi! Prova a chiacchierare. Suono dell'armonia per il campanile che suona. I rintocchi del campanile hanno suscitato un'esplosione di euforia in Amelie e nei sim nei paraggi. Il magico momento di comunanza e cameratismo è più che sufficiente a risollevare il morale di Amelie. Il morale a Amelie. E le luci di cui si vocifera? Potrebbero essere semplicemente un'ingegnosa illusione ottica o forse, e ripetiamo forse, una spolverata di magia fantasmatica. Adoro. Adorissimo. Va bene, direi che possiamo fermarci qui con questo episodio perché vedete che lei è totalmente distrutta. Poverina, però si è divertita, dai. Adoro. Scusate, ma io devo fare una foto perché quel fantasmino dietro è adorabile. E nulla, fatemi sapere assolutamente che cosa ne pensate nei commenti. Più che altro, io sono curiosa di capire che ne pensate di Joy. Secondo voi Amelie dovrebbe approfondire ancora di più le cose con lei, magari rendere il tutto ufficiale? Perché a me lei piace moltissimo. Vedo che non hanno molte interazioni automatiche, cioè devo essere comunque io per adesso. Non mi ricordo se negli episodi precedenti era anche così, però per adesso sto notando questo. Però, ripeto, lei mi piace moltissimo, quindi non lo so. Aspetto di sapere la vostra, quindi vi mando un bacio enorme. Vi ricordo di mettere mi piace, di commentare, di iscrivervi al canale se questo video vi è piaciuto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!